ma quanto è bello, guarda qua non toccare l'anore, non toccare vieni 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 vieni, vieni vieni, vieni molla molla, vieni vieni ma come si trova? qua, 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 vai, vai buttati, buttati bravo, bravo bravissimo abbiamo una pezza per asciugarlo bravissimo Lascia, 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 lascia. E' un po' di successo. Guarda l'arrivo. Però questo sta nel poter mio. Sì, lo dobbiamo scaldarsi. Ma non si può buttare a mare. Ma non sono passate neanche banche. Dai, ora mettici in sopra questo. No, fanno scotoliare. Quello si scotolia. Ci sono la banca a vera, chiedegli. No, no, ma non può essere loro, avrebbe avuto il colore. Che cazzo. Stanno cercando, vedi? Stanno... Allora andiamo, andiamo. ...